Ciao a tutti e buonasera, allora questo è il video, l'ultimo video del 2013 che è il Get Ready per il mio capodanno andrò a una festa in una villa, insomma qui vicino, la villa di un mio amico, in casa di un mio amico e saremo diverse persone e ho deciso di vestirmi così perché credo che, poi lo vedrete, comunque è un outfit insomma è proprio tipico da capodanno, con la gonna lunga, non lo so, mi piace molto volevo parlarvi un po' di quello che è stato il mio 2013 mesi fa ho perso una persona veramente fondamentale nella mia vita e diciamo che tra il prima e il dopo non è mai, diciamo che io ancora sto male per questa cosa e quindi il 2013 per me è un anno da buttare via, decisamente da proprio accartocciare e buttare nel fuoco perché non è stato proprio un bell'anno per me, ci sono state anche delle soddisfazioni dei momenti belli, con Stefano, con la famiglia, per l'università però diciamo che c'è stato questo fatto che ha un po' sconvolto tutti i miei equilibri ok, spero che questa cosa non si sia vista nei miei video perché io sono qui per intrattenervi, per farvi felici per essere felice e fare video su YouTube mi rende realmente felice nonostante le critiche, nonostante ci siano stati momenti più o meno difficili per quanto possa essere più o meno difficile YouTube quindi ho cercato in qualche modo di superare quelli che sono stati i miei umori e i malumori del momento che ci sono via via in questi mesi, ci sono stati soprattutto mesi fa nella speranza di potervi comunque far passare un tempo buono cioè come qualità del tempo, guardando i miei video spero di potervi trasmettere buone sensazioni sono contenta comunque che questo 2013 si chiuda, si finisca e di entrare in un nuovo anno lo so che è una cosa stupida perché fondamentalmente è un giorno dietro l'altro nel senso oggi è un anno, domani è il prossimo anno, lo so, è la stessa cosa però io vedo sempre l'inizio dell'anno come un reset quindi in quel momento puoi prendere l'anno che è stato tranne le conclusioni e quindi capire cosa c'è stato di buono cosa c'è stato di cattivo e in qualche modo ricominciare quello che io faccio tutti gli anni, che io non porto mai a termine perché sono fatta così ma che quest'anno ho intenzione invece di fare proprio con tutto l'impegno è portare a termine i buoni propositi credo che sia una cosa che facciamo più o meno tutti all'inizio della scuola la facevo all'inizio della scuola oppure all'inizio appunto del nuovo anno è stilare mentalmente la lista dei buoni propositi quest'anno ho intenzione di portarle a termine e è un consiglio che voglio dare e spero di dare anche voi ci sono stati in questi momenti difficili dell'anno passato dei periodi in cui io sono riuscita a riprendermi in mano a fare le cose che volevo fare a portare a termine le cose che volevo fare e è stato il momento in cui io mi sono sentita meglio mi sono sentita come, non lo so, come la vita ingrigita fosse tornata a colori diciamo e una cosa, io voglio che tutto il mio 2014 sia così stilerò la lista dei buoni propositi e porterò a termine i buoni propositi perché ho bisogno che questo 2014 sia un anno buono e migliore per me sono sicura di potervi dare questo consiglio anche se è il consiglio più scontato del mondo sono mesi che volete andare a correre la mattina bene, non l'avete mai fatto dal primo si va a correre la mattina anzi la mattina no perché la maggior parte di voi va a scuola avete deciso di iniziare la dieta oppure volete fare pace con una persona con cui non riuscite a fare pace volete abbandonare amicizie marce resettate, basta, dal primo dell'anno passiamo oltre insomma io ne ho diverse di queste cose da fare e ho intenzione di farle tutte quest'anno spero che vadano bene perché ho veramente bisogno di un 2014 energico di un 2014 che sarà un anno difficile perché ci saranno grossi cambiamenti per me sicuramente nei rapporti, in quello che dovrò fare probabilmente finirò l'università quindi insomma ho un po' paura di questo 2014 ma ho intenzione di affrontarlo con tutta me stessa cioè proprio mettere impegno nell'affrontare un anno questo anno nuovo nuovo nel vero senso della parola proprio nuovo, ripartiamo va bene detto questo io vi auguro un buon inizio anno a tutti la prima settimana forse dal 2 o dal 3 non so se è la prima settimana se penso dal 3 farò una week in outfit e quindi niente ci vediamo al prossimo video ciao should old acquaintance be forgot and never brought to mind short old acquaintance be forgot short old acquaintance be forgot and old lines I for old lines I for old lines I my dear for old lines I and we'll talk a couple kindness yet and we'll talk a couple kindness yet for old lines I and surely you'll be your pines too and surely I'll be mine and we'll talk a couple kindness yet for old lines I for old lines I for old lines I and we'll talk a couple kindness yet for old lines I we twa he run up with the breeze and put the gowings fine and we've wondered more e a weary fit sen old lines I sen old lines I Grazie a tutti.